Al via e festeggiamento dell'Immacolata presso la chiesa di San Filippo Apostolo. L'Immacolata Concessione di Maria si festeggia a Siracusa da tempo in memore, ma notizie certe si hanno già dal XVII secolo, così come riferito dagli storici. Il culto verso l'Immacolata Concessione era già molto vivo anticamente, si celebrava con un solenne novenario nelle chiese. Una delle tradizioni che fortunatamente non è andata perduta è quella della svelata, del simulacro di Maria Santissima. Da giorno 29 a giorno 8 dicembre si potrà venerare presso la chiesa di San Filippo Apostolo la Beata Vergine Maria Immacolata. Giorno 8 dicembre, giorno della festa, il solenne pontificale presaduto dal nuovo arcivescovo di Siracusa, Su'Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, sarà possibile accedere in chiesa solo attraverso i pass autorizzati per solo 70 persone. La Santa Messa ogni giorno, preceduta dal rosario e dal canto dell'ostellario, sarà celebrata alle 18 rispettando le regole anti-Covid.